Cambiamo argomento, anche la TGR Calabria sarà impegnata nella campagna nazionale lanciata dalla testata giornalistica regionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con l'Inail. Da oggi fino a venerdì 20 giugno parleremo in ogni appuntamento informativo della tragica realtà degli infortuni e incidenti sui cantieri. Partiamo con l'intervista di Antonio Lopez, al direttore generale dell'Inail Calabria, Emilio Silenzi, che risponde ai nostri quesiti sulla cultura della sicurezza. La battaglia è ancora lunga, anche se da parte dell'Inail mette in campo tutte quelle che sono le proprie risorse, dal punto di vista economico, per tentare di accelerare al più presto questa possibilità di ridurre e secondo me si può anche azzerare il numero dei morti sul lavoro, perché in realtà c'è la possibilità di farlo questo. Come? Noi vogliamo sfatare un mito e anche un equivoco. Spendere soldi per la prevenzione e la sicurezza non è un costo, è un investimento. Oggi noi spendiamo dei soldi per la prevenzione e cerchiamo di farlo nella maniera più redditizia possibile. Dove andiamo a spendere questi soldi? Li andiamo a spendere soprattutto con i ragazzi, con i giovani, perché lì possiamo veramente incidere in maniera pesante. Giovani, ma addirittura giovani delle scuole elementari. Ecco, non a caso voi organizzate appunto dei seminari o comunque avete questo lavoro sinergico che fate con le istituzioni scolastiche. Esatto. Noi facciamo degli interventi, addirittura proprio quelli delle scuole elementari, dove abbiamo visto che la rispondenza è massima. Più difficile è coinvolgere ragazzi magari che stanno già alle superiori, ma questo lo abbiamo anche fatto recentemente con la presentazione di una rappresentazione teatrale fatta peraltro da un nostro infortunato e che ha dato luogo ad un aspetto assolutamente prevedibile per quanto riguarda noi, ma imprevedibile per quanto riguarda la cittadinanza, cioè l'attenzione massima che mettevano questi ragazzi all'interno del teatro. Perché? Perché l'argomento trattato, un grande invalido che fa la rappresentazione teatrale e la fa rivolta ai ragazzi, chiaramente a questo punto già abbastanza maturi, pronti per la collettività, ha dato la possibilità di vedere veramente e toccare con mano quello che è il risultato di una scarsa attenzione che a volte è da parte del lavoratore e a volte da parte del datore di lavoro. Quindi qui abbiamo bisogno della massima sinergia, i rapporti devono essere stretti tra il lavoratore e il datore di lavoro, tra il datore di lavoro e il lavoratore, il vantaggio è per tutte e due. Insomma si può stare tranquilli che per il futuro qualcosa migliorerà in questo settore, intanto c'è questa promozione della campagna sulla sicurezza sul luogo di lavoro, ma proprio praticamente gli effetti concreti di questa campagna si vedranno, si potranno vedere? Ritengo proprio di sì, voi immaginate che il costo di un infortunio dati Istat per la collettività monta a 40 mila Euro per ogni infortunio, se noi riusciamo a ridurre di mille il numero degli infortuni e quindi delle percentuali anche relativamente basse del 10%, mille, significano 40 mila per mille 40 milioni di Euro risparmiati, allora si capisce benissimo come noi pur investendo qualcosa nel settore della prevenzione della sicurezza potremmo ottenere dei risparmi per la collettività importantissimi, ma noi non facciamo solo la campagna sul lavoro, ma lo facciamo anche lavorando appunto sui ragazzi, su quella che può essere la sicurezza domestica, la sicurezza stradale, cioè tutte quelle forme di sicurezza che secondo il mio modesto avviso potrebbero anche consentirci di avere dei risparmi a livello nazionale, far ripartire l'economia, immaginiamo un po' investire dei soldi per ridurre il numero degli infortuni sul lavoro, degli infortuni domestici, degli infortuni sulla strada e aggiungerei anche, e qui non è il mio campo, quello delle malattie, ma noi potremmo lì avere veramente la possibilità di fare dei risparmi pubblici in maniera significativa e addirittura spendendo, quindi muoviamo l'economia, nello stesso tempo creiamo delle grandi forme di risparmio e soprattutto, cosa non trascurabile, non ci facciamo male. E per ogni informazione, per qualunque informazione, vi possono contattare sul vostro sito, il sito dell'INAE, dove si troverà ogni risposta possibile al momento per quanto riguarda questo tema molto importante. È ancora lunga la strada da percorrere in Calabria per far considerare un valore di impresa la sicurezza sui posti di lavoro. Il numero degli incidenti resta alto. Gli iscritti all'associazione mutilate invalidi di lavoro nella sola provincia di Catanzaro sono poco meno di 5.000. Le strutture riabilitative sono carenti e da 20 anni si aspetta l'apertura del centro protesi dell'INAE. Emanuele Aggemelli ha sentito Luigi Cuomo, presidente ANMIL di Catanzaro e Franco Ianni. 4.700 invalidi sul lavoro in provincia di Catanzaro con percentuali dal 30% in poi, cioè tutti incidenti con conseguenze piuttosto gravi. Il numero comprende solo quelli iscritti all'ANMIL, all'Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro. C'è poi l'esercito nascosto di chi non denuncia. I numeri raccontano un territorio nel quale le aziende sulla sicurezza investono poco, niente. Purtroppo le aziende dove risparmiano? Risparmiano proprio sulla sicurezza e quello è il problema. In Calabria qual è la situazione riguardo alle strutture soprattutto? In Calabria le strutture fatiscente. Se è un invalido deve andare a fare una terapia, deve fare una risonanza, un'attacca. Ci stanno dei tempi lunghissimi che non è possibile portare avanti queste situazioni perché se uno si infortuna deve sapere che cosa c'è e cosa non c'è. Se uno deve aspettare tre mesi, quattro mesi per una risonanza che fa? Deve stare a casa quattro mesi? Qui strutture non ce ne sono, ma è una mezza verità perché in realtà una struttura c'è, è grandissima, si trova alla Mezzia Terme, alla Fondazione Terina, nei locali della Fondazione Terina, ma è chiusa. Il problema è questo, che quando c'è un infortunio, un infortunio grave specialmente, era aperto qua, l'infortunato restava qua direttamente al centro protesi della Mezzia che è da vent'anni che si dovrebbe aprire, ma praticamente devono andare a budio con tutte le sofferenze di viaggio, di tante cose che è patiscente. La vittima dell'infortunio in Calabria, in tutta la regione, fa i conti non solo con la propria storia personale, ma anche con quella di un territorio nel quale i servizi danno risposte del tutto insufficienti. Franco lo incontriamo appena rientrato dall'Emilia. Purtroppo in Calabria non ho trovato nulla e quindi mi devo recare ogni volta con molti disagi a questo centro per avere delle cure. Con molte difficoltà ogni volta, circa anche tre volte all'anno, mi devo recare e vorrei un attimino dire ai nostri politici, visto che qua il centro è ultimato, è quasi pronto di darsi una mossa per poter un attimino restare qui in Calabria, e fare le cure giuste per tutti questi disabili che ne hanno bisogno. Una porta sbarrata, una targa col cellofan e la speranza che l'interminabile storia del centro protesi dell'Inail in Calabria abbia un lieto fine per scrivere la parola speranza sulle vicende di tanti calabresi come Franco, chiamati ad una prova difficile e che hanno diritto di essere messi in condizione di combattere la loro battaglia.